Musica Polemiche per la vignetta di Charlie Hebdo sul sisma nel centro Italia, l'editoriale di Lorenzo Peluso. Terremoto, la regione investe 50 milioni per la sicurezza degli edifici pubblici. Teggiano, il gruppo Rinnoviamo Diano chiede una sala ma la maggioranza la occupa, la minoranza è esclusa anche dal sito internet. Cilento Blu e le vie del mare, un grande successo, oltre 50 mila le presenze. Calcio, Salernitana, tutto pronto per la sfida con il Verona, il punto in eccellenza e prima categoria. Buonasera e bentrovati al telegiornale di Uno TV. Ha suscitato molte polemiche la vignetta del giornale francese Charlie Hebdo che ha fatto satira sul terremoto che ha colpito il centro Italia. Su questo è intervenuto il direttore di quasi mezzogiorno.it, il giornalista Lorenzo Peluso, che in un editoriale esprime il suo punto di vista sulla vicenda. Ascoltiamolo. Ci indigniamo, ancora una volta, immagini dissacranti, disegni che suscitano sdegno, oggi che parlano di noi, italiani. Ma quanto sono irriverenti questi francesi di Charlie? Si comprende, certamente, l'indignazione per una vignetta che racconta al mondo la versione qualunquista degli italiani. Pizza, mandolino, mafia. Una vignetta che dissacra il dolore per la morte, tragica, delle povere vittime di un terremoto. Di una catastrofe naturale. Lo si capisce. Si deve però riflettere sul senso stesso della satira. Irriverente, sempre. Libera, sempre. Pungente e profondamente ispiratrice di emozioni e sensazioni. Insomma, la satira è satira. O piace o non piace. Viceversa, magari, occorre interrogarsi sulle diverse reazioni che la satira ispira, a seconda del contesto e dell'emozionalità del momento. Dunque, siamo tutti Charlie? No, non lo siamo più. Magari potrebbe essere utile interrogarsi sul significato di quelle vignette irriverenti di Charlie. Non siamo forse noi, italiani, le commissioni di inchiesta, gli inquirenti, la nostra consapevolezza, ad affermare al mondo che dietro i disastri naturali di un terremoto, spesso, forse anche ad Amatrice, si celano gli interessi meschini dell'uomo e del malaffare. Le case si sgretolano perché l'uomo costruisce male, pensando solo agli interessi economici. Cosa dicono queste vignette? Tolta l'irriverenza, nel non rispettare il dolore, oltre a questo. Insomma, la satira o si ama o la si disprezza. La satira è satira, sempre. Non può avere mezze misure. Non sarebbe dunque satira. Io credo viceversa che serva a nulla indignarsi. Tanto, perdonatemi, ma ritengo che anche l'indignazione sia solo frutto di quel momento dove tutti si conformano all'esperienza collettiva. La satira è libera. Sono liberi, purtroppo, anche coloro che dalle disgrazie poi si arricchiscono. È libera la mafia, quella che continua a fare affari. La mafia che fingiamo spesso, pur di non aver nessun problema, di non vedere. Fingiamo di non vedere quei politicanti che affermano di governare nell'interesse del bene comune, nel mentre coltivano solo ed esclusivamente gli interessi personali. Quei colletti bianchi, che messi al posto giusto, garantiscono che tutto vada come i soliti noti desiderano e pianificano. Insomma, indigniamoci pure per le vignette di Charlie, indigniamoci però per quello che fingiamo di non vedere o non sapere. Forse poi, possiamo dire ancora una volta, siamo tutti Charlie. La regione Campania stanzierà 50 milioni di euro per mettere in sicurezza gli edifici pubblici, imparare dalle tragedie e riqualificare, mettere in sicurezza il nostro patrimonio. Così il governatore Vincenzo De Luca annuncia il provvedimento. L'emergenza terremoto che ha colpito il centro Italia ha devastato tre paesi, provocando la morte di circa 300 persone ancora negli occhi di tutti. La Campania, che nel suo recente passato ha vissuto la tragicità di un evento sismico, è da subito stata in prima linea per fornire gli aiuti alle popolazioni colpite dal sisma. Mai più Irpini a 1980, mai più l'Aquila 2009, mai più Amatrice 2016. E il leitmotiv di questa settimana e le istituzioni sono al lavoro per provvedere a mettere in sicurezza gli edifici pubblici. La regione Campania, dal canto suo, è pronta di investire 50 milioni di euro per mettere in sicurezza gli edifici. 25 sono disponibili da subito l'altra metà a gennaio. Il terremoto che ha colpito il centro Italia ha solo dato un'accelerazione di quanto era già programmato a cominciare dai piani di evacuazione, ha dichiarato il governatore della regione Vincenzo De Luca. Non potendo intervenire sugli edifici privati, da Palazzo Santa Lucia si punta ad intervenire almeno sugli edifici pubblici, facendo una verifica dello stato attuale degli edifici sulla scorta di quanto già è stato sollecitato prima dell'estate dalla Prefettura. Come riporta l'edizione odierna del mattino, se da un lato non si vuole creare inutili allarmismi, dall'altro resta il fatto che ci sono molte scuole, caserme e ospedali che non hanno il certificato antisismico. La regione, come confermato dal governatore De Luca, ha stanziato 50 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza prima di tutto di scuole ed ospedali. Poi vareremo, annuncia De Luca, una legge per reintrodurre il fascicolo del fabbricato, una sorta di carta d'identità che certifica lo stato di sicurezza di ogni edificio. Dobbiamo sapere imparare dalle tragedie per dare vita ad una nuova economia, non speculare ma riqualificare e mettere in sicurezza il nostro patrimonio, creando nel contempo nuovi posti di lavoro. E passiamo alla cronaca. Controlli antidroga su tutto il territorio con i carabinieri della Compagnia di Sapri, che hanno tratto in arresto due giovani di 20 e 22 anni, ad operare i militari della stazione di Centola Palinuro, agli ordini del maresciallo Giuseppe Sansone. Nella serata di ieri hanno arrestato quindi due soggetti extracomunitari con l'accusa di spaccio di sostanza stupefacente. Nei pressi di Palinuro i militari operanti notavano i due ragazzi, entrambi originari del Gambia, in un atteggiamento sospetto. Infatti gli stessi si rendevano protagonisti della cessione in strada di alcune dosi di hashish ad acquirenti occasionali. I carabinieri hanno quindi deciso di intervenire fermando i due pusher, che venivano trovati in possesso di ulteriori 5 grammi di hashish e di una somma in contanti pari a 55 euro, anche questa sottoposta a sequestro, poiché ritenuta provento dell'illecita attività di spaccio. I due rei sono ora trattenuti presso le camere di sicurezza della compagnia dei carabinieri di Sapri, in attesa del rito direttissimo disposto dall'autorità giudiziaria di Vallo della Lucania. Cambiamo argomento. A Teggiano sembra essere stata cancellata la minoranza consigliare. Il gruppo consigliare Rinnoviamo Diano chiede infatti il riconoscimento di un idoneo luogo da destinare alle attività della minoranza, ma la sala scelta dopo la richiesta viene destinata a sala aggiunta. Intanto sul sito internet compaiono solo i nomi dei consiglieri di maggioranza. Per il comune i quattro eletti del gruppo Rinnoviamo Diano non esistono. Con una nota stampa il gruppo di minoranza consigliare di Teggiano, Rinnoviamo Diano, porta a conoscenza della cittadinanza di Teggiano la mancata concessione da parte dell'amministrazione comunale di uno spazio all'interno della casa comunale dedicato proprio al gruppo di opposizione per l'espletamento delle proprie funzioni. Secondo quanto si legge nella nota, lo statuto comunale all'articolo 17 dedicato proprio alla regolamentazione dei gruppi consigliari al comma 2 prevede la messa a disposizione per ogni gruppo di un apposito spazio nella casa comunale per meglio svolgere il mandato elettorale di cui sono investiti. Sussistendo tale norma, il gruppo di Rinnoviamo Diano aveva chiesto la disponibilità di una sala vicina a quella del sindaco che però pare sia stata destinata invece alla sala aggiunta successivamente alla richiesta. Il gruppo di minoranza Rinnoviamo Diano, si legge nella nota, apprende con disappunto che la stanza attigua a quella del sindaco viene destinata a sala aggiunta. Vogliamo ricordare che lo stesso gruppo lo scorso 30 agosto 2016 ha presentato formale richiesta al sindaco di messa a disposizione di quello stesso spazio con dotazione di strumenti informatici per lo svolgimento delle attività istituzionali di sua competenza così come previsto da precedente disposizione sindacale del 15 dicembre 2015 dell'allora sindaco Rocco Cimino, mai revocata. È proprio necessario, continuano dal gruppo Rinnoviamo Diano, per un'aggiunta composta da soli quattro assessori più il sindaco l'utilizzo di spazi assolutamente sovradimensionati? O si tratta piuttosto di scarsa attenzione, per non dire di ostracismo, a ruolo assegnato alla minoranza che peraltro rappresenta il 45,9% della popolazione nonché a rispetto delle regole. Si vede all'articolo 17,2 dello statuto che così recita i gruppi consigliari, salvo disponibilità, hanno diritto a un idoneo locale presso la casa comunale per l'espletamento delle loro funzioni di mandato amministrativo. La nota continua sottolineando come la decisione di destinare la sala contigua a quella del sindaco come sala aggiunta, si è arrivata all'indomani della formale richiesta presentata dal gruppo consigliare di minoranza. Una decisione che spinge il gruppo scrivente anche ad una riflessione relativa alla gestione del sito internet e all'aggiornamento dello stesso in ordine di trasparenza. Come mai, si chiedono nella nota stampa i consiglieri di minoranza, questa scelta all'indomani di formale richiesta presentata dalla minoranza e con quale provvedimento? Dimenticavamo, continuano, che probabilmente questa minoranza è tuttora fantasma vista la scarsa trasparenza che caratterizza il sito web del comune di Teggiano dove si legge che il consiglio è composto da questi soli soggetti Vincenzo Dalto, Rosa Cimino, Con Antonio Delia, Giuseppe Forlano oltre che dal sindaco e dai componenti dell'aggiunta. Sul sito internet, infatti, alla voce organi di governo per ciò che riguarda la composizione del Consiglio Comunale, al momento non vengono riportati i nomi degli eletti insieme al Consiglio Comunale per la lista Rinnoviamo di Ano, quindi Rocco Cimino, Marianna Morello, Crescenzio De Paola e Veglia De Paola. Al momento ancora mancante ha anche il nome del subentrato insieme alla maggioranza, Cono Morello. Grande successo per il progetto Cilento Blu della Regione Campania che ha reso più accessibili collegamenti per i turisti che vogliono trascorrere le proprie vacanze nel Cilento. Un successo che ha coinvolto anche le vie del mare con oltre 50.000 presenze. Con un post su Facebook, l'assessore regionale al turismo Corrado Matera ha evidenziato il grande successo del progetto della Regione Campania Cilento Blu. Un progetto che ha portato i collegamenti più rapidi per le aree del Cilento e non solo, garantendo ai turisti di poter optare tra la soluzione treno-gomma e la soluzione treno-mare per raggiungere le località balneari. Un grande successo, come testimoniato dunque dalla parola dell'assessore regionale Matera. Cilento Blu e le vie del mare, un grande successo con 50.000 presenze in soli due mesi. Il Cilento Blu è un progetto promosso dall'assessorato allo sviluppo e alla promozione del turismo della Regione Campania, sostenuto con finanziamenti regionali dal MIBACT per collegare il nostro territorio con cui è stato attivato un sistema integrato di trasporto con Freccia Rossa e Italo per meglio collegare le città del nord Italia e il Cilento e il Valo di Diano e assicurare un viaggio comodo e veloce. Con la modalità via mare, invece, il turista ha avuto l'opportunità di usufruire di collegamenti marittimi per la costa d'Amalfi, per l'isola di Capri, le città di Napoli e Salerno. Un successo per il trasporto via mare che inizialmente previsto fino al 31 agosto è stato esteso fino alla giornata di domani, domenica 4 agosto settembre. Il servizio, invece, di Italo Bus è stato attivato lo scorso 18 giugno e sarà possibile usufruirne fino al prossimo 12 settembre mentre, per quanto riguarda il servizio di Trenetaria, è stato garantito dall'8 luglio all'11 settembre. Un progetto importante di sicuro successo che ha permesso di venire in contro alle esigenze dei turisti, rendere le ale e barneari facilmente accessibili bypassando le difficoltà della viabilità che causa frane e sbottamenti, interessano l'area cilentana e non solo. Una grande soddisfazione per quanto messo in campo dall'ente regionale e dall'assessore al turismo Corrado Matera che sicuramente ha avuto ripercussioni positive anche sull'economia locale. E passiamo a Sala Consilina. Oggi e domani la seconda edizione di Figli in Festa, la manifestazione organizzata dall'Associazione I Nostri Figli. L'obiettivo è affermare il valore della famiglia e il rapporto genitori-figli. Tutto pronto per la seconda edizione di Figli in Festa, la manifestazione organizzata dall'Associazione I Nostri Figli in programma oggi e domani nella piazzetta Trinità di Sala Consilina. Il programma della manifestazione alle quali sono iscritti ben 180 bambini prevede l'apertura alle ore 16 di oggi con la consegna dei kit e l'inizio delle diverse attività in programma. Alle 19.30 la Santa Messa all'aperto mentre alle 21 la serata sarà alietata da spettacoli e balli. Domani, domenica 4 settembre, la manifestazione aprirà i battenti alle ore 9.30 con l'inizio delle attività sportive realizzate in collaborazione con l'Associazione Free Fox a cui faranno seguito le attività ludiche. Dopo la pausa pranzo si riprende con la caccia al tesoro e altre attività. Alle 20.00 l'area genitori formazione con il dottor Diego Di Novella ed altri esperti. Dalle 21.00 invece gli spettacoli di ballo condotte dalle palestre ASD Sport Zone e della palestra Life Gym. Anche quest'anno attraverso l'edizione di Figli in festa l'Associazione ha come obiettivo affermare il valore della famiglia e il rapporto tra genitori e figli. L'Associazione infatti si distingue da sempre per l'attenzione che sa riservare ai più piccoli per le attività e gli spazi dedicati all'infanzia in particolare per la crescita creativa e il rispetto degli altri dell'ambiente la sensibilità all'arte al teatro e alla musica e all'educazione scientifica. Figli in festa ospiterà dunque eventi a misura di bambino con un occhio di riguardo al loro mondo alle loro aspettative e alle loro espressioni. Una grande festa che prenderà spunto dal tema della giungla una giungla di emozioni e il caso di dirlo la fantasia la curiosità il divertimento il gioco la voglia di imparare e di stare insieme. Erano in 91 i piccoli partecipanti alle selezioni per l'accesso alla 59esima edizione dello Zecchino d'Oro in programma a partire dal 19 novembre. Soltanto in 13 però sono stati ammessi alla finale dell'Antoniano di Bologna e tra questi piccoli artistici anche Luca Morello di 5 anni originario di Teggiano. Tra i piccoli interpreti del 59esimo Zecchino d'Oro ci sarà anche un po' del Vallo di Diano. Nella giornata di ieri infatti sono stati resi noti i nomi dei 13 bambini che a partire dal 19 novembre saliranno sul palcoscenico dell'Antoniano di Bologna per presentare i loro brani inediti. Lo Zecchino d'Oro nato negli anni 60 è da sempre stata una manifestazione canora che ha suscitato un grande interesse musicale. Le simpatiche e spettacolari interpretazioni dei piccoli cantanti che nel corso degli anni sono stati protagonisti dello Zecchino d'Oro hanno regalato alla musica italiana dei piccoli capolavori che tuttora vengono canticchiati e fatti ascoltare ai piccoli. Parliamo di canzoni come Le tagliatelle di Nonna Pina 44 gatti Il coccodrillo come fa Volevo un gatto nero Il valzer del moscerino e tantissime altre canzoni che hanno fatto crescere milioni di bambini e che restano comunque nel cuore e nella mente anche dei più giovani. Lo Zecchino d'Oro ha anche lanciato piccoli artisti come il caso di Cristina D'Avena che dopo l'esperienza e la vittoria nell'edizione del 1968 è entrata a far parte del piccolo coro dell'Antoniano per poi diventare interprete di numerose sigle di cartoni animalti che hanno accompagnato la crescita dei piccoli bambini italiani. Ma è il piccolo coro dell'Antoniano che rappresenta il successo di questo festival che nel 2008 è stato riconosciuto patrimonio per una cultura di pace diventando patrimonio culturale italiano. Questa 59esima edizione del programma musicale simbolo della musica dedicata ai bambini vedrà protagonista anche Luca Morello originario di Teggiano ma che vive a Vigevano in provincia di Pavia. Luca a 5 anni è stato selezionato tra i 91 piccoli candidati canterini che hanno partecipato alle selezioni e provenienti da tutta Italia rientrando tra i 13 italiani partecipanti che saranno raggiunti da altri due piccoli cantanti provenienti dall'estero per rappresentare la Finlandia e l'Inghilterra. A partire dal 19 novembre quindi e fino al 10 dicembre per 4 sabato pomeriggio tutti a fare il tifo per il piccolo Luca Morello che sarà tra i protagonisti di questa 59esima edizione dello Zecchino d'Oro. E adesso diamo la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. A Città e Pollicinella è il titolo dell'ultimo lavoro di Enzo Polito che racchiude nel CD e nel DVD il concerto live che si è tenuto a Cava dei Tirreni e realizzato dalla sua orchestra popolare composta da circa 20 persone tra cui Totino Melillo. È un'orchestra che con il suo lavoro tocca attraverso i canti tutte le regioni italiane. Il maestro Enzo Polito presenta ai nostri microfoni quest'ultimo lavoro. Ascoltiamolo. Totino a parte il suo compito di solista ma fa parte della mia orchestra popolare un'orchestra che io ho fatto nel 2000 dopo l'esperienza Pandemonium a Roma ho scelto di stare qui nel Vallo perché amo stare nel Vallo insomma ho sempre un ufficio a Roma e anche a Napoli però ho fatto un'orchestra popolare Anna Maria perché attraverso l'orchestra popolare mi piaceva toccare tutti i canti delle regioni della nostra bella penissima l'ho capito? Ora con un'orchestra che fa un tipo di musica chiamata World sarebbe percussioni tutti i suoni del Mediterraneo è un'orchestra molto grande siamo circa 21 persone e Totino è anche fa parte dei vocalisti perché Totino? Perché l'ho messo in mezzo altrimenti questo ragazzo non avrebbe trovato mai dove cantare realmente con un'orchestra alle spalle senza computer non avendo fatto una scuola soltanto con la mia orchestra può fare perché la scuola più bella è quella della strada cioè lavorando e sbagliando lui sbaglia spesso però è simpatico fa un po' da autista canta insomma poi è simpatico e io lo faccio anche esibire perché attraverso i miei concerti lui può anche insomma farsi conoscere di più e questo che ti regalo oggi che abbiamo realizzato è un concerto fatto a Cava di Tirreni una piazzetta bellissima che è teatrale molto teatrale e ho pensato di fare un cd e un dvd perché ogni volta mi chiedevano ma che fate? allora scusami non voglio tanto parlare parte con te che è un piacere voglio suonare e nel concerto c'è anche Ci penso occorre che è il primo brano che ho realizzato per Totino qualcuno che lo vuole lo do io lo diamo noi perché tutti gli amici questa è la mia filosofia almeno nel vallo invece fuori dal vallo abbiamo la piattaforma Amazon e poi Digital Record su Digital Record che è un'etichetta napoletana di cui faccio parte c'è tutta la mia produzione della mia azienda per la marcia music quindi per esempio c'è la mia orchestra c'è un altro artista che è Roberto Polito mio fratello che suona la batteria con Massimo Ranieri Clorario che è venuto pure qui a fare un'esperienza un'intervista con te insomma tutti i prodotti della pera marcia sono su Digital Record in queste ore si sta svolgendo il raduno di preparazione per gli arbitri di Can 5 categoria Calcio a 5 ad essere stati convocati a Santa Sofia in provincia di Forlì anche il presidente dell'Aias alla Consilina Gian Piero Cafaro e Giuseppe Aumenta intanto ci sono nuove designazioni per la Lega Pro Stanno per concludersi le sessioni di raduno precampionato per gli arbitri italiani a breve infatti prenderanno il via tutti i campionati con la stagione sportiva e calcistica 2016-2017 che sarà entrata ufficialmente nel vivo la sezione AIA di Sala Consilina anche questo fine settimana vede i suoi tesserati impegnati a Sportilia per il raduno di Can 5 dedicato alla formazione degli arbitri per il campionato di calcio a 5 ad essere stati convocati per il raduno a Santa Sofia in provincia di Forlì anche Giuseppe Aumenta convocato per il primo turno dal 2 al 4 settembre e il presidente della sezione AIA Salese Gian Piero Cafaro che invece raggiungerà il centro tecnico Sportilia domani 4 settembre e resterà fino al 6 settembre per la preparazione in vista del campionato ritmi serrati quelli previsti non potrebbe essere altrimenti molti infatti gli argomenti da trattare il neocommissario Angelo Montesardi ha dato il benvenuto ai presenti convocati nel primo gruppo tra cui 58 neopromossi che per la prima volta si affacciano ad un panorama nazionale questi momenti sono fondamentali affrontate di conserenità e senza ansia siete arbitri nazionali queste le parole del responsabile in quella che di certo non si rivela una semplice lezione frontale ma piuttosto un confronto in un momento massimo di condivisione del quale si deve sapere approfittare il raduno come tutti gli altri appuntamenti preparatori non è solo lezioni in aule approfondimento tecnico ma anche allenamento assistiti dai preparatori e test atletici intanto gli altri tesserati si preparano invece a scendere in campo a seguito designazione da parte dell'organo nazionale domani 4 settembre per il campionato di Lega Pro Massimo Manzolillo è stato designato come assistente arbitro nella gara tra Lecce e Acragas Città dei Templi in programma domani alle ore 20 e 30 allo stadio Via del Mare di Lecce e passiamo al calcio oltre 20 mila per la sfida contro il Verona in programma domani alla Rechi intanto i tifosi chiedono un regalo per cancellare il 19 giugno 2011 sale la febbre tra i tifosi Granata che da tempo hanno cerchiato sul proprio calendario la data del 4 settembre come il giorno più importante di quest'anno forse la sfida al Verona è per molti un tufo al passato e la voglia è di cancellare quanto accaduto nello spareggio playoff del 19 giugno del 2011 che condannò al fallimento in Granata la storia ha fatto il suo corso i miei tifosi non dimenticano e sono pronti a rappresentare il dodicesimo uomo in campo domani sarà una Rechi vestito a festa con oltre 20 mila spettatori sugli spalti pronti a spingere coda e soci in una partita la cui vittoria va al di là dei tre punti né è conscia la società ne sono consapevoli i giocatori né è conscio mister Sanino che sta nascondendo la formazione più di un derby più di una finale playoff questo salernitana Verona per l'ambiente Granata ha quasi la forma di una finale di Champions League il mercato Granata si è chiuso con le partenze di Rossi Moro e Troianiello e gli arrivi della Rocca Perico Marchi e Ronaldo una salernitana completa a questo punto che vuole sorprendere e regalare gioia ai tifosi dal punto di vista dell'ordine pubblico la macchina organizzativa ha posto di vieni su alcuni punti e chiuse diverse strade essendo una sfida notturna sarà ancora più complicato il lavoro delle forze dell'ordine ma si punta a ripetere l'ottimo lavoro svolto nella passata stagione quando la prima casalinga la salernitana ospitò l'avellino e furono evitati ogni possibile contatti tra le due tifoserie questo sarà l'obiettivo di domani sera la speranza è che ci si ricordi delle geste dei calciatori in campo e non di quello che accadrà fuori sugli spalti sarà una spinta dal riscaldamento al triplice fischio quella che faranno i tifosi ai calciatori il compito di regalare un 4 settembre magico ai supporters Granata domani con la Coppa Italia di eccellenza parte la nuova stagione il territorio non sarà rappresentato in promozione almeno tre invece le squadre ai nastri di partenza della prima categoria dal primo luglio è iniziata ufficialmente la stagione sportiva 2016-2017 ma il calcio giocato gli impegni ufficiali della nuova stagione partiranno questo fine settimana la prima squadra del territorio a scendere in campo sarà il Valdiano che sarà l'unica rappresentante tra eccellenza e promozione la squadra allenata da Cristian Manfredini giocherà nel campionato di eccellenze e bagnerà il suo debutto ufficiale in trasferta in Coppa contro il Calpazio al Vaudano di Capaccio un match alla portata per i Blaugrana che esageranno la propria condizione fisica in vista del debutto casalingo in campionato in programma tra sette giorni il territorio valdenese però non sarà rappresentato nel campionato di promozione la retrocessione del Sassano della passata stagione e la non iscrizione del Montesano che nel frattempo ha operato la fusione con il Campagna ha reso orfano i rappresentanti di valdianesi nel secondo torneo regionale la prima categoria invece torna ad abbracciare dopo due stagioni il Sassano il presidente Ricciardone secondo le voci che circolano nelle ultime ore sta costruendo la squadra che affronterà il prossimo campionato sarà in tono minore rispetto agli altri anni ma non mancherà ai nastri di partenza confermata anche la presenza della certosa di Padula che già sta operando sul mercato tra conferme e nuovi arrivi per farsi trovare pronto all'inizio della nuova stagione sarà ancora in prima categoria nonostante la retrocessione dello scorso anno la pollese nuovi ma vecchi soci che sono rientrati a dare il proprio contributo per costruire una squadra che almeno sulla carta e per tradizione giocoforza deve puntare in alto sarà un campionato di prima categoria che dunque si annuncia vincente con i favori del pronostico che tendono tutti a favore di campagna reale al Paolo Monte ma soltanto le composizioni dei gironi potranno illuminarci sulle ambizioni delle squadre valdianesi con questo servizio si chiude il nostro telegiornale vi ringrazio di essere stati con noi e vi auguro buona serata grazie a tutti grazie a tutti